Ciao, Sant'Ambreuse, danno una mano in quella di Sant'Ambreuse, come Sant'Ucch, patron di Milano, sia della città che della Diogesi, e come l'anno passato sono andato alla chiesa di Sant'Ambreuse a Cassinamata, visto che anche per tutta la città di Paderno d'Uniano fa da santo patrono, che stiamo facendo per chi lavora e può farlo, ha fatto un bel ponticello tra sabato e domani. E questo è il Sant'Ambreuse solito, la statua che è geringesa, due ghippisi in davanti e il muculot, cioè ogni anno l'amministrazione comunale offre il cero a Sant'Ambrogio, quest'anno è stato posto il cero davanti a un'altra immagine che è questa, sempre di Sant'Ambrogio, ma è un'icona realizzata proprio con lo stile dell'icona, da un iconografo, Julian Rosu, che conosciamo da tempo, e raffigura appunto sempre il santo milanese che è molto venerato anche in Oriente. In che ora pensare di tanti roppi su l'importanza di Sant'Ambreuse, con la politica, con la Gesa, con tutto quello che deve fare nella città, ma il tempo resta pochi, allora se anche domani a domandare come la protezione di Sant'Ambrogio, guarda giova, dando una mano a tutti, a quei che governa e a quei che governa, e a noi in Cambrosiano. Bene, ciao ticsi!